no vabbè se non ci fossero bisognerebbe inventarli se non ci fossero bisognerebbe inventarli guarda mamma mia è un film comico un film comico cioè hanno fatto un primo tempo un buon primo tempo più che un buon primo tempo una buona prima mezz'ora di primo tempo hanno fatto gol con lukaku sul colpo di testa andato sul palo di lautaro hanno tenuto botta nel secondo tempo il bologna che stava giocando meglio in quel frangente resta in 10 per una cazzata di soriano qualche minuto dopo candreva il migliore dei suoi il migliore e ora sono serio il migliore dei suoi conquista un calcio di rigore va lautaro e se lo fa parare fin qui diciamo tutto normale fin qui tutto normale sinisa fa dei cambi e l'indovina porca miseria se l'indovina mette questo ragazzino iuva la del gambia e soprattutto mette palacio e sposta barro sulla destra cioè sinisa ha fatto un capolavoro tattico niente grazie a un liscio di gagliardini amore di rigore iuva la trova il gol ti amo gaglia ti amo gaglia mamma mia dopo un po perdono palla su un attacco ripartenza e pigliano il gol gran giocata gran giocata del bologna gran contro gran contropiede del bologna usati mi mangio le parole ma sto ridendo come un matto da un'ora e gran gol di barro che aveva già preso un palo prima dell'espulsione di soriano e poi sanchez si mangia due gol incredibili vabbè comunque facendo un'analisi seria della partita un po difficile farla cioè qua c'è ancora c'è ancora più da ridere della partita con sassuolo ma ammazza che liscio gagliardini guarda è da vedere è praticamente allora ora sono serio vediamo se riesco a essere serio cari interisti voi eravate quelli che ci perculavate per delict vero per i falli di mano per certe amnesie la prima parte di stagione voi eravate quelli che ci perculavate per delict parlatemi di erixen dai su parlatemi di erixen cioè raga la buonanima di mio nonno in campo correva di più ma lo riuscite a capire che avete preso un pacco riuscite a capirlo o no che avete preso un pacco difatti fuori lui l'inter è tornata a giocare anche se erano sotto vabbè fuori lui l'inter è tornata a giocare ragazzi sono state due azioni di erixen emblematiche cambio di gioco dal lato se non sbaglio di d'ambrosio lui che poteva benissimo arrivarci sulla palla va in fallo laterale la palla ragazzi ma che cazzo avete questo è un calciatore che andava bene negli anni 80 trequartista che gioca da fermo come giocava zico come giocava diciamo in un certo modo platini come giocava che so i vari antonioni di bartolomei questo è un giocatore da anni 80 ma ancora ma secondo voi murigno sbaglia a cedere un giocatore ce l'avete avuto murigno ma murigno vi dava erixen così poi sapete perché insisto perché voi eravate quelli che ci perculavate per delict solo che per delict parliamo di un ragazzo di appena 20 anni che ha tutto ha tutto per diventare un top 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 nel suo ruolo qualche svagatezza ce l'ha ancora ma ha tutto ma ha solo i 20 anni erixen è un giocatore sulla soglia dei 30 erixen è da campionato cinese dove sono talmente scarsi che lui può permettersi di giocare da fermo quelli corrono soltanto in cina qua è diversa qui arriva un soriano, un sansone, uno swamberg che ti piscia in testa e voi sapete ciò che penso di Pjanic erixen il modulo giusto per erixen è il 4, 2, 3, 1 chiaro? e lì però do la colpa all'allenatore 4, 2, 3, 1 con lui trequartista centrale a far correre nel Tottenham giocava così lui è buono solo ai calci d'angolo e ai calci piazzati gioca da fermo e io ve l'ho detto sin da quando sin da prima di prenderlo attenzione che state prendendo un pacco attenzione state prendendo un pacco e ho avuto ragione per carità non è che sia scarso il giocatore ma non ha più il ritmo non ha più il ritmo in Italia si gioca un calcio un po' più veloce di qualche anno fa grazie a squadre come il Napoli, Di Sarri, come la Lazio, come la Roma, Di Francesco che comunque hanno velocizzato un po' il calcio italiano lo stesso Conte con la Juventus ecco, Eriksen magari andava bene una decina di anni fa cioè, vi rendete conto che quell'annetto scarso che fece Beckham al Milan fece molto meglio? vi rendete conto? che Beckham al Milan fece molto meglio? e questo è quanto? poi l'altro problema in attacco se non gira Lukaku, non gira l'Inter l'Inter è Lukaku dipendente lo volete capire o no? l'Inter è Lukaku dipendente fa gol anche nelle sue giornate anche nelle giornate in cui non è certo al top riesce, ha fatto comunque 20 gol in campionato cazzo li vuoi dire? ha fatto la sua migliore annata in carriera Lukaku praticamente cazzo li vuoi dire? non ci fosse stato lui non so se eravate terzi o quarti non so non ci fosse stato Lukaku Lukaku Candreva che è un fedelissimo di Conte non per niente sta giocando un'ottima stagione De Vrij De Vrij, Bastoni ma scusatevi ma Godin che cazzo l'avete comprato a fare? e anche lì è colpa dell'allenatore delle sue fisime di questa difesa 3 Godin e Eriksen con il modulo di Conte sono due giocatori inutili per come gioca Conte noi l'abbiamo avuto è bravo ma è un testone è bravo ma è un testone è bravissimo Conte ma è un testone d'altronde se uno dei cocchi di sacchi qualcosa altro testone qualcosa vorrà pur dire per il resto ci godiamo ci facciamo due risate noi guantini ce l'avete per culato per delict adesso ve tocca per il resto chiudo come aperto il video ragazzi se non ci foste se non ci foste bisognerebbe inventarvi lasciate un like e iscrivetevi al canale a uffidersi